Un operaio risulta positivo al test sierologico e saltano così momentaneamente i lavori in via Calamandrei. L'intervento di manutenzione e rifacimento del manto stradale era infatti programmato per lo scorso lunedì, ma la presenza di anticorpi del virus sul sangue di uno degli addetti dell'azienda appaltatrice ha bloccato i lavori che verranno riprogrammati dal comune di Arezzo. Tutti gli operai dell'impresa sono stati così sospesi dalle mansioni in attesa di ulteriori esami. In queste situazioni diventa infatti obbligatorio il tampone per accertare o meno la positività al covid-19 e in attesa del risultato scatta comunque l'isolamento, in alcuni casi anche dei contatti stretti, di chi viene trovato con gli anticorpi sviluppati contro il virus. Il tratto interessato dai lavori al momento stoppati era di poco più di un chilometro, dal sottopasso all'altezza della rotonda che poi mette sul ponte sulla chiana in direzione Pescaiola.